Musica Prima di occuparci delle preposizioni in lingua tedesca è ottima cosa ripassare per bene le preposizioni in lingua italiana. Armiamoci di pazienza e procediamo con molta calma. In italiano abbiamo vari tipi di preposizioni. Ci sono le preposizioni proprie, e cioè le preposizioni semplici. Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Da cui derivano le preposizioni articolate, e cioè preposizioni formate dalle preposizioni semplici più gli articoli. Vi faccio un paio di esempi utilizzando due preposizioni semplici. Con la preposizione di Del, di più l'articolo il Dello, di più l'articolo lo Della, di più l'articolo la E poi al plurale Dei, degli, delle Vi riporto qui la scheda con tutte le preposizioni articolate. Poi ci sono le preposizioni improprie, che normalmente sono dei nomi, degli aggettivi, degli avverbi, delle forme verbali, che vengono utilizzati talvolta come preposizioni improprie. Vi faccio alcuni esempi Maria ha salutato tutti escluso me Escluso è un aggettivo, ma in questo caso viene usato impropriamente come preposizione, ed ecco perché si chiamano preposizioni improprie. Farò una pausa dopo le sei Dopo è un avverbio di tempo, ma in questo caso viene usato come preposizione impropria. E in ultimo abbiamo le locuzioni prepositive, che sono formate da una o più parole, seguite sempre da una preposizione semplice. Ad esempio Di fianco a voi c'è un muro Preposizione semplice più nome più preposizione semplice Di fianco a è una locuzione prepositiva Vediamo ora come vengono tradotte in tedesco le nove preposizioni semplice. Di viene tradotto dalle preposizioni In, Aus, Von, Juba In si usa nell'espressione di notte Di notte è buio In la notte esso è buio In der Nacht ist es dunkel Quindi dalla traduzione letterale possiamo notare che nell'espressione di notte Di viene tradotto con in Come se noi in italiano dicessimo Nella notte è buio In può essere anche usato in riferimento a materie di studio Ad esempio Ho un esame di matematica Io ho una esame in matematica Ich habe eine früchung in mathe Di viene tradotto dalla preposizione Aus per indicare di che materiale è fatto qualcosa Ad esempio Il tavolo è di legno Der Tisch ist aus Holz La sedia è di plastica Der Stuhl ist aus Kunsthof Di viene tradotto anche dalla preposizione Von Per indicare l'azione da parte di qualcuno Ad esempio Il dono è di Gabi Das Geschenk ist von Gabi Questa è un'autobiografia di Peter Pakesh Das ist eine autobiografie von Peter Pakesh E in ultimo Juba Che si usa in riferimento ad un tema specifico Vi faccio un esempio Conversiamo tra noi riguardo al libro Noi conversiamo a noi di il libro Wir unterhielten uns Juba das Buch La preposizione A viene tradotta in tedesco dalle preposizioni An, Auf, Zu, Mit, In, Nach La preposizione An si usa per indicare un oggetto che viene attaccato o appeso a qualcosa Ad esempio Il quadro appeso al muro Das Bild hängt an der Wand An si usa anche per indicare quando si è davanti a qualcosa Qualcuno è alla porta Qualcuno sta alla porta jemand steht an der Tür Zu si usa per indicare un lasso di tempo ben definito Ad esempio Per le 18 non sarò a casa Per 18 ora sarò io non a casa Vor 18 Uhr werde ich nicht zu Hause sein Auf traduce le espressioni Al mondo Ad un evento Al lavoro Alla stazione Vi faccio alcuni esempi Tu sei la più bella persona al mondo Du bist der nächste Mensch auf der Welt Ieri eravamo ad un concerto Noi eravamo ieri a un concerto Wir waren gestern auf einem concert Lui è ancora al lavoro Er ist noch auf der Arbeit Sei tu alla stazione? Bist du auf dem Bahnhof? Mit si usa quando con la preposizione A Si intende l'espressione all'età D Lei ha a 30 anni tedesco imparato Sie hat mit 30 Jahren Deutsch gelernt Marco andò a 25 anni in Tibet Mark ging mit 25 Jahren nach Tibet In si usa per indicare un indirizzo Oppure per indicare un'istituzione Un immobile Lui vive a Berlino Alla Mozartstrada Er wohnt in Berlin I ragazzi sono alla scuola Die Kinder sind in der Schule E infine abbiamo nach Che si usa per il moto al luogo Andiamo a Berlino Noi guidiamo a Berlino Wir fahren nach Berlin La preposizione da in tedesco Viene tradotta dalle preposizioni Aus e Zeit Aus si usa per indicare l'origine La provenienza Jan viene da Hamburgo Jan kommt aus Hamburg Zeit si usa per indicare un lasso di tempo Che va da un momento del passato Fino al presente Ad esempio Noi viviamo qui dal 2010 Noi viviamo qui da 2010 anni Wir wohnen hier seit 2010 Jahren La preposizione in viene tradotta in tedesco Dalle preposizioni in e auf In si usa quando ci si riferisce a qualcosa In un giornale o in un libro Ad esempio L'ho letto in un giornale L'ho io in il giornale letto Das habe ich in der Zeitung gelesen In si usa anche per indicare il moto al luogo Ad esempio Porto i piatti in cucina Io porto i piatti in la cucina Ich bringe die Tella in die Küche Auf si usa nelle espressioni Nella foto e nelle lingue Nella foto ci sono i miei genitori In la foto sono miei genitori Auf dem Bild sind meine Eltern Lo puoi dire in tedesco? Puoi tu questo in tedesco dire? Kannst du das auf Deutsch sagen?